Ma c'è un cartello? Vietato l'ingresso a quelli di Marina Piccola. Di sicura è stata Katia. No, davvero. Questa è troppo anche per lei. Non ci credo. Ma come ne vedi in mente? Ah, siete voi? Bene. Che cos'è questo? Non sai leggere? Ma che ti credi di essere? Ma come ti sei vestita? Che c'è? È già arrivato Halloween? Ma che fu fai? Katia, smettila. Ma come ti permetti? E poi noi abbiamo già pagato, quindi ora ci fa entrare. Come minimo. Quel cartello è una vergogna. Sì, veramente. Cioè, come si fa? Sai, non so se abbiamo così tante voglie di stare con gente come voi. Quanto siete seri. Era uno scherzo, eh? Che non fa ridere. Prego. Così imparate cos'è una vera festa? Se entriamo sarà così per tutta la serata. E io sinceramente questa soddisfazione non voglio dargliela. Nemmeno noi. Neanch'io. Chiama Lidia. Chi c'è? Bisogno di aiuto? Allora dentro o fuori? Mi sto cominciando a stancare. Fuori. Peggio per voi. E meglio per me. Dai, adesso ci mettiamo qualcosa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.